Armando Corona, sardo di 61 anni, medico, per gli amici l'Armandino, ma dal 27 marzo 1982 per tutti è il gran maestro del Grande Oriente di Palazzo Giustiniani. Eletto con 289 voti su 500, oggi è lui che ha in mano il gran maglietto del potere massonico ed è l'unico che può rilasciare interviste. Repubblicano dal 64 viene dal partito sardo d'azione, nel 79 è presidente dell'assemblea regionale sarda e membro della segreteria del partito repubblicano, amico di Spadolini e di Lamalfa, è il presidente del collegio dei probiviri del partito repubblicano, è massone dal 69, dal 72 è maestro venerabile della loggia Iram di Cagliari, dal 78 presidente della corte centrale di giustizia massonica che nell'agosto scorso spelle Gelli e sospende Salvini. Dicono che con lui la massoneria volta pagina, 18.000 fratelli vogliono uscire dal ciclone P2 che ha investito 540 loggie. Massoneria all'estero è qualcosa di grosso, massoni sono stati molti presidenti degli Stati Uniti, tra i quali Roosevelt e Eisenhower, massone il duca di Kent, il principe Bernardo d'Olanda, il re di Svezia, lo Shah di Persia, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Kissinger, Haig, l'attuale segretario di Stato americano. Da noi è un po' diverso, massoni era Garibaldi, massoni erano Farinacci e Gian Giacomo Feltrinelli, Sindona e Enrico Fermi, Carmelo Spagnuolo e Curzio Malaparte, Starace e Carducci, Italo Balbo, Totò e Quasimodo e poi il padre di Francesco Cossiga e quello di Enrico Berlinguer. Ma cos'è veramente la massoneria? Corona fino all'elezione non ha priva bocca, di lui hanno scritto che sembrava un Robespierre sardo, oggi è gran maestro e può parlare. Professore, anzi gran maestro, anzi come preferisce essere chiamato? Come crede? Preferisco dottore perché non sono professore. Dottore, che effetto le fa essere il gran maestro di una massoneria che per la prima volta non è solo ammirata e temuta come in passato, anche se combattuta, ma che è come oggi, un po', diciamolo pure, un po' spernacchiata. Guardi, io sono sardo come lei sa e noi siamo abituati sempre a fare le cose più difficili, non le più semplici. Cosa ha significato per la massoneria essere per la prima volta nell'occhio del ciclone degli scandali? Ah, una cosa terribile per chi ci crede veramente. In che senso? Nel senso che ognuno di noi ha aderito alla massoneria per principi molto lobili e poi si è trovata coinvolta personalmente come istituzione in una cosa che non le appartiene. Ecco, essere massone in due parole, cosa significa? Beh, significa innanzitutto credere nel trinomio libertà, uguaglianza e fratellanza e poi significa essere liberi e di buoni costumi. Ecco, ma come mai in questo trinomio ci credono quasi solo i potenti? Perché sono quasi tutti potenti di scritto della massoneria. Ma questo non è assolutamente vero. Personalmente sono stato iniziato da un operaio di Carbonia, come lei sa una città mineraria e conosco lavoratori iscritti alla massoneria. Ecco, suo padre era un anarchico, come ha fatto lei a diventare massone? Beh, ognuno di noi ha seguito una propria strada attraverso la cultura e l'educazione che ha potuto ricevere. E che rapporto c'è fra l'anarchia di suo padre e il suo essere massone? Beh, mio padre era un anarchico libertario, aveva bisogno di istituzioni ideali, quelle con le quali si confrontava evidentemente non lo erano per lui e le rifiutava. Ecco, ma che cosa l'ha fatto entrare in massoneria? Ah, io sono entrato in massoneria quando ero ormai non solo un uomo maturo ma anche politicamente ero già arrivato. Sono entrato proprio per il desiderio di ritrovarmi con altri che credessero in un certo ideale. Ecco, lei era uno scuro medico di provincia che è arrivato a Cagliari e è diventato rapidamente molto ricco. In tutto questo la massoneria cosa c'entra? Oh, guardi, questo è un... innanzitutto non è assolutamente vero, perché io sono arrivato a Cagliari quando stavo già bene, tanto è vero che sono arrivato a Cagliari apprendo una casa di cura propria. Ma in undici anni da massone semplice a gran maestro, una bella carriera. E questo è già diverso. Questo significa che uno può essere massone anche senza essere iscritto alla massoneria. Evidentemente io li ero già prima. Dopo la sua elezione qualcuno ha scritto se non fossero così potenti sarebbero decisamente ridicoli con quei grimbiulini ricamati. Lei non si è mai sentito ridicolo durante i riti massonici? Assolutamente, guardi. Ecco, la vostra simbologia comunque agli occhi del profano risulta un po' macabra. Teschi, drappi neri, cappucci come nelle esecuzioni capitali. Perché questo clima così funebre? Guardi, questo clima esiste solo nella fantasia di chi scrive, perché in effetti non lo è nella realtà. Ecco, ma il cappuccio per esempio cosa significa? Il cappuccio ha una sua origine storica che ogni tanto si porta, ma solo in determinate circostanze. Lei sa che la massoneria a un certo momento della nostra storia si è identificata con la carboneria. Era necessario che coloro che giudicavano dell'ingresso del nuovo arrivato fossero coperti per non farsi riconoscere. Ecco, il grembiulino cosa significa? Il grembiulino ha invece la sua, è l'emblema più tipico della massoneria perché i massoni, così si chiamano da masson, che vuol dire muratore, e gli antichi muratori lavoravano col grembiulino di pelle. Del resto in Sardegna lavorano ancora. Ecco, lei, a detta di tutti, è stato l'ammazzagelli. Che cosa, come ha fatto? Anche questo è un fatto che va meditato, perché tutti avevano questa gran paura di Gelli io l'ho processato, l'ho espulso, fino adesso non mi è successo nulla. Ecco, gli uomini di Gelli però sono ancora forti, perché se è vero come è vero che lei è stato eletto solo con 289 voti su 500, mi pare che ci sia ancora molto da fare per togliere le tracce di Gelli. Beh, vede, io non direi che quelli che non hanno votato per me erano per Gelli. Direi che quelli che non hanno votato per me avevano paura del nuovo. Ecco, alcuni piduisti si sono comunque rivolti al Comitato Internazionale di Solidarietà Abramo Lincoln, che sta a Zurigo, per avere protezione e giustizia, dicono loro, contro di voi. La cosa la turba? Assolutamente. Perché? Non so neanche chi siano innanzitutto, da chi sia composto questo comitato, ma non mi turba assolutamente. Lei ha detto i pidue non li consideriamo massoni, ma come fa a dirlo? Perché la maggior parte dei piduisti sono stati iniziati da chi non poteva iniziarli. Ecco, ma è vero che lei è riuscito a fare spellere Gelli dalla massoleria solo perché il gran maestro può concedere interviste e lui invece ne aveva fatta una, quella famosa al Corriere della Sede. Lo escludo nella maniera più assoluta. La sentenza dell'espulsione di Gelli è chiarissima, perché egli ha costituito un circolo privato denominato impropriamente loggia massonica. E quindi le vere irregolarità massoniche compiute dalla P2 di Licio Gelli, quali sono state? Quella di essersi costituito in un circolo privato, ripeto, facendo tutte cose diverse da quelle che la massoneria consente. Cioè, secondo lei Gelli non era un massone? No, io non dico che Gelli non era un massone, non era, non erano massoni i piduisti, cioè coloro che sono stati iniziati in quel tale albergo da persone che non potevano iniziarli. Egno Battelli, che era il suo predecessore, ha detto che Gelli e gli altri sono state vittime di una persecuzione condotta con metodi nazisti. Lei cosa ne dice? Appartiene al giudizio di Battelli, io non discuto. Ecco, sempre Battelli, parlando col senatore Missino Pisano, avrebbe detto che la famosa lista degli iscritti alla P2 non è di 900, ma di 1600 persone. C'è allora un'altra super P2 ancora più segreta nel nostro futuro? Guardi, anche questo appartiene al giudizio di Battelli, io non ne so assolutamente niente e non credo che esista nessun'altra logia segreta in Italia. Ecco, si dice però che nonostante i vostri sforzi Gelli sia protetto dai grandi circoli della massoneria internazionale, è vero? Anche questo lo escludo. Qualcuno dice che l'affare P2 se da una parte ha screditato la massoneria e dall'altra l'ha resa famosa, tant'è vero che al Grande Oriente, per mille che ne sono andati, 15.000 hanno fatto domande di iscrizione, è vero? Io invidio veramente coloro che conoscono tutti questi dati, escludo anche questo, non è vero affatto. Lei ha detto che le sue ricette per salvare la massoneria sono due, abolire la segretezza e democratizzare la carriera. In concreto cosa vuol dire? Non democratizzare la carriera, democratizzare l'istituzione anche nello statuto, perché noi abbiamo ancora uno statuto di cento anni fa, mentre oggi le esigenze sono diverse. E la segretezza mi consente. Oggi essendoci libertà assoluta in Italia, democrazia, almeno ci dovrebbe essere, io mi auguro che ci sia sempre di più, è possibile mano a mano abolire questa segretezza. Ecco, lei abolirà anche i cosiddetti fratelli all'orecchio del Gran Maestro, cioè i fratelli del tutto segreti? Quelli sono già aboliti per me, io non ne ho neanche uno, lo posso dichiarare ufficialmente. Lei ha dichiarato al quotidiano della Repubblica che i nomi dei massoni non sono segreti ma sono riservati, che differenza c'è? C'è una bella differenza perché noi denunciamo alla pubblica autorità i nomi dei responsabili e qualora la pubblica autorità lo richieda, se ha motivi per farlo e se ciò è costituzionale noi li ridiamo. Ecco, ma lei ci può indicare dei nomi di persone, di rilievo dello spettacolo, della cultura, della politica, del giornalismo che lei ha iniziato alla massoneria? Io non ho iniziato nessuno. Se è contro la segretezza, come dice, perché non ha accettato la proposta dell'onorevole Mammì di far dichiarare pubblicamente a tutti i massoni la loro appartenenza all'elogio? No, guardi che l'onorevole Mammì ha chiesto ai repubblicani, non a tutti. Ai repubblicani, perché no? Ma perché non mi sembra giusto che ci siano alcuni che portano la stella al petto come gli ebrei durante il nazismo e altri no? Ecco, ma perché all'estero i massoni non si nascondono mentre da noi un po' si un po' Ma non si nascondono neanche qui, guardi, basterebbe però avere la possibilità di poterlo dire pubblicamente. Lei sa che esiste, esistono due tipi di bigottismo in Italia, lei sa a cosa mi riferisco, che impediscono questa pubblicizzazione dei nomi. Ecco, ma al momento della sua nomina a Gran Maestro lei ha restituito nelle mani di Spadolini la sua tessera di partito repubblicano. Perché lo ha fatto? Per non coinvolgere il partito repubblicano nelle decisioni che prenderò come Gran Maestro e viceversa. Ma c'è incompatibilità fra cosa? No, assolutamente, non c'è nessuna incompatibilità. Ma è un atto di correttezza mia, personale, nei confronti del partito, nei confronti della massoneria. Ecco, ma perché allora non si è dimesso anche dal suo posto di consigliere regionale sardo? Perché non mi ha mandato il partito a fare il consigliere regionale, nello statuto sardo sta scritto che il consigliere rappresenta tutto il popolo sardo. Ecco, ma si dice che in Sardegna le giunte regionali nascano se Corona le vuole ed è d'accordo e se non è d'accordo e nascono lo stesso, durano pochissimo. Ma, guardi, questo è assolutamente falso. Ma è vero che Spadolini e Amalfa, per non mancare al matrimonio di sua figlia, sono venuti in Sardegna con un aeromilitare? Perché il Presidente del Consiglio non può viaggiare con nessun altro aereo? Come farà a stare lontano dalla politica un uomo come lei che fa e disfa le giunte, che stando a quanto dice Panorama controlla il 25 o il 30% del comitato centrale dei partiti laici e complessivamente un gruppo di 100 parlamentari tutti massoni. Potrà stare lontano dalla politica? Guardi, prima di tutto c'è una differenza assoluta e netta fra massoneria e partiti, che non è la stessa cosa con la politica. Quindi c'è un super partito massone? No, assolutamente, anzi tutte le volte che la massoneria ha voluto fare questo è caduta e credo che Gelli in fondo volesse fare questo. Ecco, ma cos'è il potere per lei? Ma guardi, il potere per me è quello che è per tutti gli altri. Cioè? È la capacità di gestire qualche cosa. E il denaro quanto conta? Il denaro? Sì. Ma guardi, se lei chiede a un sardo che cosa conta il denaro, le risponderà che conta meno del mare, perché noi siamo molto più condizionati dal mare che dal denaro. Ecco, massoneria e denaro comunque la Sirigiri, sono sempre, sembrano essere un connubio indivisibile. Ma per fare cosa? Ma guardi, è la stessa cosa che se lei chiede danaro e Rotter e danaro e Lions, sono delle associazioni tipiche. Sì, però Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, ha detto, sono entrato in massoneria perché altrimenti con i banchieri inglesi non si poteva neppure parlare. È stato un suo eccesso di scrupolo? Ignoro che sia persino iscritto alla massoneria Roberto Calvi, non lo so, non so. Ma chi sono i massoni che contano di più nella finanza internazionale? Anche questo non lo so. Io sto appena entrando, forse se me lo chiede fra un anno sarò in grado di dirgli. Quindi non sa se nella finanza internazionale contano di più gli ebrei o i massoni? Ma guardi, io non credo assolutamente, i massoni non lo credo. Qualcuno l'ha definita l'uomo degli Stati Uniti nella massoneria italiana. Lei accetta questa definizione? Sarei fortunato se lo fossi. Sempre a proposito di rapporti di potere tra massoneria americana e italiana, Francesco Siniscalchi, un ex massone che se ne intende a quanto pare, ha detto che in Italia senza il gradimento della massoneria americana non si diventa ministri della difesa. È possibile o è un'invenzione? Non so se sia un'invenzione, so che non è vero. Ma lei si sente filo occidentale? Ah, questo senz'altro. E che cosa significa per lei? Significa respirare la stessa cultura, la stessa civiltà. Lei ha detto anche che con i comunisti ho aperto un colloquio non da adesso, ma da moltissimi anni. Parlavi il repubblicano o il massone? Parlavo sia come repubblicano che come massone, anche come massone. Cioè essere massoni non è incompatibile con l'essere comunista? No, mi consente. Innanzitutto essere massoni significa non essere settari. E siccome il partito comunista è un partito come tutti gli altri e abbiamo anche dei comunisti in massoneria, non significa affatto. Papa Voitila recentemente ha ribadito l'incompatibilità tra l'essere cattolico e l'essere massone. Lei è deluso o è contento? No, io ho sempre detto all'interno dell'istituzione massonica che rifiuto ogni colloquio di questo tipo, perché quando un'istituzione sa già di aver sempre la ragione di avere tutta la verità con sé è inutile discuterci. Ecco, lei è sempre stato anticlericale e sono famose le sue lotte contro il vescovo del suo paese per impedirgli di costruire le chiese. Il suo atteggiamento oggi è cambiato o è sempre lo stesso? Guardi, io non è che gli impedissi di costruire le chiese. Si provava? Io ero il medico personale di quel vescovo, gli facevo la battaglia perché io ero laico e lui non lo era. Ecco, ma per lei essere un laico combattente cosa significa? Significa difendere la libertà di ognuno. Carlo De Benedetti, anche lui massone per sua stessa ammissione, la settimana scorsa ha detto qui a Mixer che il potere temporale della chiesa è finito. Lei è d'accordo? No. Perché? Perché? Perché purtroppo lo vediamo che non è così. Professore, un'ultima domanda forse un po' ingenua. Secondo lei, una persona che non fa parte di nessuna delle internazionali diciamo di cui abbiamo parlato questa sera ha la possibilità di emergere ugualmente nella vita? Ah, non c'è dubbio. Però, Badi, vorrei qui ricordare che un deputato italiano che è stato poi forse l'unico che ha pagato veramente, ha detto che si era iscritto alla P2 per avere un minimo di protezione perché nella società di oggi senza protezione dice, ha detto questo deputato non si può vivere. Ha detto molta parte di verità. Grazie.